il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di wanuo e di 8 su 10 è il più desiderato le caratteristiche principali sono facile da montare leggero comodo robustezza stile se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video questo prodotto realizzato da air gear ha conquistato una votazione di 8 su 10 punti totali è il più esclusivo di questa selezione le sue peculiarità sono robustezza ottimo rapporto qualità prezzo facile da montare stabilità comodo in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto foten ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8 su un totale di 10 punti risulta essere la nostra scelta migliore questi sono i suoi punti di forza facile da montare robustezza stabilità in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato la valutazione finale assegnata a questo articolo di lori ergo e di 8 voti su un totale di 10 è il più scontato di questa selezione ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono facile da montare comodo ottimo rapporto qualità prezzo versatilità robustezza stile se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video amazon basics ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8 su 10 questo è il migliore di questa selezione i suoi pregi sono facile da montare comodo durabilità ottimo rapporto qualità prezzo robustezza versatilità se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo di questo articolo di bonte che è di 8 su 10 è al momento il più votato con 17.574 valutazioni per questa categoria i punti di forza sono facile da montare stabilità robustezza comodo leggero durabilità puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video